Ben ritrovati a Extra in questa puntata, protagonisti gli Avvocati Verbanesi e il Tribunale di Verbania. L'occasione c'è offerta dal rinnovo del Consiglio degli Ordini degli Avvocati e abbiamo proprio il nostro ospite qui in studio, il Presidente uscente Marco Marchioni. Benvenuto. Grazie, buona giornata a tutti. Allora, la sua esperienza è di due mandati, se non erro. Come Presidente uno in realtà dal 2004 che sono in Consiglio, per cui quasi 20 anni. Quindi insomma avrà tanto da raccontarci dal punto di vista sicuramente professionale ma anche umano in questo importante ruolo. E quindi ci sarà molto di cui parlare e saluto anche l'ospite che abbiamo in collegamento che è l'Avvocato Mirella Cristina. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, lieta di essere con voi. Ecco, Avvocato Cristina che è stata anche recentemente protagonista di quella che definirei una avventura come con la sua candidatura al CSM, ma ne parleremo sicuramente più tardi nel corso della puntata direttamente con lei. Allora, partiamo però con l'Avvocato Marchioni. Allora, innanzitutto cerchiamo di spiegare anche per chi è profano, non conosce bene questo mondo, che cos'è l'Ordine degli Avvocati e quali sono le sue prerogative. L'Ordine degli Avvocati è un organismo istituzionale di rappresentanza dell'Avvocatura. La nostra, ovviamente, mamma è il CNF, il Consiglio Nazionale Forense, con sede a Roma, presso il Ministero. E quindi siamo gli esponenti istituzionali dell'Avvocatura nel territorio. Rappresentate un po' la vostra categoria in quello che è la competenza del Foro di Verbagna. Rappresentiamo la categoria, ma siamo anche il trade union con i cittadini, perché se un cittadino ha magari qualche segnalazione nei confronti di Avvocati, si rivolge al Consiglio dell'Ordine. E quindi un tempo, e quindi torno alla mia esperienza passata, la competenza disciplinare era del Consiglio dell'Ordine, adesso da qualche anno del Consiglio di Disciplina, che è distrettuale, quindi a Torino, ma di conseguenza diciamo che siamo un po' l'organo di rappresentanza e controllo della correttezza dell'operato degli Avvocati sul territorio. Ecco poi di questi giorni ed attualità al tema della riforma cartabia, tutto quello che sta cambiando e che cambierà nel mondo della giustizia, che vi vedrà anche protagonisti. Penso che in questi vent'anni di cambiamenti di storia ne abbia vista tante, anche sull'evoluzione del nostro Tribunale di Verbagna. Moltissimi direi. Da semplice consigliere arrivare al Presidente ne ho viste veramente tante. Quindi la maggior burocratizzazione dell'Ordine, che insomma prima gestiva piccole questioni tra Avvocati e cittadini, fino a tutte le incombenze amministrative che ad oggi invece si vede costretto ad affrontare. Ecco, partiamo proprio dal Tribunale di Verbagna. Com'è la situazione attuale? Siamo usciti comunque dal periodo Covid, ci si sta assestando su un ritorno, penso, ai ritmi soliti. Abbiamo delle dimensioni, del numero di procedimenti che vengono trattati? Cioè è un Tribunale magari piccolo, perché la nostra provincia è piccola, però in realtà il territorio è piuttosto vasto. Beh, il Tribunale di Verbagna ovviamente rappresenta uno dei tribunali più piccoli che è rimasto in Italia dopo l'accorpamento del 2013, se non va del rato. Tuttavia, come diceva lei, il territorio è vasto e il numero di cause è comunque rilevante. Adesso io un numero preciso non glielo so dire, però qualche migliaio di procedimenti civili all'anno e altrettanti penali che hanno subito nel corso di questi quattro anni di mia presidenza sicuramente una flessione determinata da svariate cause, ma comunque è un Tribunale che gestisce, e direi anche bene, secondo quelle che sono le verifiche da parte dei principali giornali. Mi viene in mente solo le 24 ore che l'anno scorso ci aveva piazzato, mi sembra addirittura al primo posto per efficienza, per cui seppur piccolo, anzi forse è un valore aggiunto. Ecco, il Tribunale che ha fatto anche un salto, e ne parleremo sicuramente anche grazie ad altri contributi, verso la digitalizzazione anche, quindi una modernizzazione. Il Tribunale di Verbagna, anche qua, sembra che mi voglia vantare, ma non è merito mio, è merito di precedenti consigli, di precedenti presidenti e anche dei magistrati che sono susseguiti alla guida del Tribunale di Verbagna, è stato forse uno dei primi, perché se non vado errato c'era Verbagna, c'era Torino e c'era Milano, a intraprendere la via della digitalizzazione, inizialmente ricordo con il Presidente Terzi, addirittura il Consiglio dell'Ordine aveva investito del denaro proprio per la creazione di un programma che era embrionale al tempo, ma che di fatto già guardava il processo civile telematico e poi è stato soppiantato dal programma a livello nazionale, per cui direi, torno a dire, piccoli ma volti all'efficienza. Allora io chiamerei, adesso mi collegherei di nuovo con l'Avvocato Mirella Cristina, che magari dall'esperienza di Verbagna ci racconta un po' a caldo come sono stati questi giorni a Roma con le elezioni dei membri laici del CSM. Grazie innanzitutto, ne approfitto per salutare l'altro ospite, l'Avvocato Marchioni, nonché mio Presidente, essendo io iscritta all'Ordine degli Avvocati di Verbagna e lo ringrazio per il lavoro che fin qui ha svolto, egregio lavoro. L'esperienza della mia candidatura al CSM è stata inizialmente dettata proprio dalla richiesta di molti miei colleghi con i quali ho lavorato in Commissione Giustizia, abbiamo lavorato molto bene e quindi si pensava a dare una rappresentanza femminile all'interno di una candidatura laica. Ricordo anche che la riforma del CSM che ha portato i consiglieri laici da 8 a 10 è stata proprio licenziata durante la scorsa legislatura proprio dalla Commissione Giustizia sotto il Ministro Cartabia. È stata un'esperienza bella perché è stata una vera e propria campagna elettorale, anche se vi confesso che poi alla fine sono i curriculum a decidere, però poi è una scelta prettamente politica, quella che porta là il consigliere al CSM, che poi comunque deve garantire la più completa estranetà addirittura alla politica con la cancellazione dell'alvo da parte dell'avvocato che è chiamato a svolgere il ruolo di consigliere del CSM proprio per questa imparzialità a cui si è chiamati. È stata una bella esperienza, purtroppo l'amarezza è stata quella di… io ero in quota a Forza Italia, fino alle ultime due ore ero ancora una delle favorite proprio anche come rappresentanza di genere e poi purtroppo anziché due posti il centro-destra ha deciso di assegnare a Forza Italia solo un posto e quindi lo spazio è stato lasciato al candidato più vecchio e quindi ho assistito alla sua elezione, alla gioia comunque, perché comunque è un rappresentante degno e valido del partito. Siamo sicuri che ci saranno altri importanti incarichi per la sua carriera, intanto siamo contenti che non è stata comunque cancellata dall'alvo e la vedremo ancora nei corridoi del Tribunale di Verbania. Assolutamente sì, ma lo sono ancora di più tutti i miei clienti che erano fortemente preoccupati, ma adesso rasserino loro che starò qua ancora. Ecco, a proposito di quanto dicevamo prima con l'Avvocato Marchioni, lei si occupa molto anche di cause civili, di diritto civile, questa modernizzazione e digitalizzazione del processo civile, come sta andando secondo la sua esperienza, anche magari durante il Covid se ha facilitato il lavoro? Ma occorre fare una premessa, il PNRR ha posto per la prima volta l'attenzione sulla giustizia e ha dettato un programma di governo volto proprio a superare quella che è la lentezza del nostro sistema di giustizia, sia penale che civile. Ovvio, come diceva anche l'Avvocato Marchioni prima, il nostro Tribunale è sempre stato un'eccellenza, perché è di molto inferiore alla media della durata dei processi a livello nazionale, i nostri giudici sono sempre stati molto più veloci nell'evadere la richiesta di giustizia rispetto alle altre realtà di tribunali in cui la durata media di un processo è attestata intorno ai 7-8 anni. Capite che la certezza del diritto, la certezza della giusta durata di un processo ha anche riflessi sul mondo economico, perché se io sono un investitore estero, arrivo in Italia, voglio investire e per una qualsiasi lite mi trovo a stare in ballo 7-8 anni, decido di magari andare a investire i miei capitali in Germania, dove è tutto più snello e fluido. Quindi la riforma Cartabia si impronta proprio su questa maggior accelerazione del disbrigo. È ovvio che correlato a tutto questo ci va un'implementazione di tutto quello che è il personale di cancelleria, l'informatizzazione, la digitalizzazione di cui noi col Tribunale di Verbania, come diceva prima il collega, siamo molto avanti. E poi la giusta pretesa di riformare anche non solo l'aspetto civile, ma anche l'aspetto penale per superare quel periodo veramente brutto e buio che abbiamo vissuto con l'inizio della passata legislatura in cui abbiamo visto imperare una giustizia manettara, una giustizia in cui i reati erano più stimati che di fatto, dove non c'era più la giusta durata del processo. Era tutto un sistema da riformare. Ci siamo riusciti, io ho curato più che altro l'aspetto col Ministro Cartabia della riforma del processo civile. È ovvio che adesso si tratta poi di attuare. Doveva essere tutto pronto per il 30 giugno, alcune norme sono già entrate in vigore, ma è stato anticipato, forse perché è anche l'Europa che ci ha chiesto un'accelerazione in merito al 27 febbraio. Quindi non credo che tutte le strutture siano pronte, però si spera veramente di far fronte a questa accelerazione che vede tecnicamente, ma questo si può anche comprendere, lo sgravio del carico dei tribunali con una maggiore implementazione e valorizzazione di tutti quei meccanismi di composizione consensuale dei conflitti, quindi la mediazione, la negoziazione assistita. Sono tutte procedure tecniche extra procedimento che se vanno a buon fine con una buona organizzazione portano un carico inferiore di lavoro ai tribunali. Approfondiremo sicuramente gli aspetti della riforma Cartabia, voleva intervenire su quanto ha detto l'avvocato? Condivido e saluto ovviamente la collega Mirella Cristina che è un'amica oltre che una collega stimata e mi dispiace per la sua non elezione al CSM, avrebbe sicuramente fatto una bella figura e avrebbe fatto fare una bella figura all'avvocatura verbanese, per cui mi dispiace. Detto questo sicuramente la riforma Cartabia sarà un passo probabilmente in avanti rispetto a una velocizzazione dei processi, ritengo che purtroppo la riforma sulla carta non potrà risolvere o quantomeno magari ne parleremo tra due o tre anni quando avremo dei numeri reali e non delle ipotesi, non accelererà in maniera così importante quella che è la durata media dei processi in Italia. Su Verbagna, come diceva la collega, effettivamente siamo di molto inferiori rispetto al tempo medio di un processo nel resto d'Italia. Vi faccio un esempio, appena iniziata la mia professione avevamo un processo in un altro tribunale d'Italia, non vi dico neanche dove perché sbaglierei sicuramente a riferimento, ma la prima udienza si teneva, mi ricordo, intorno alla metà del mese di novembre, era il 2000 se non vado a rato, la seconda udienza è stata fissata al 2011. Ora voi capite che tra la prima e la seconda udienza, 10-11 anni, è impossibile dare la giustizia che i cittadini meritano, ma soprattutto, come diceva la collega, è impossibile stimolare gli investimenti dall'estero, perché se un imprenditore viene in Italia e dice voglio investire qualche milione di euro, con quelli che poi l'indotto e anche il riflesso a livello occupazionale e poi si ritrova per un problema qualsiasi in causa per 10 anni, alla fine anche avendo ragione il suo investimento non ha più il valore di 10 anni prima e quindi si va a investire in altri paesi d'Europa, per cui effettivamente comprendo che l'Europa ce lo chieda, ma sono i cittadini e gli imprenditori che lo chiedono principalmente, ma effettivamente la vera accelerazione dei processi si avrà quando si investirà su personale cancelleria e su magistrati, perché è lì la differenza, perché tutte le riforme arrivano poi all'imbuto del giudice, perché il codice può prevedere come quello attuale dei termini perentori per il deposito di memorie di atti da parte degli avvocati, ma poi la fissazione della data tra un'udienza e l'altra la determina il giudice e quindi a Verbagna, dove siamo ovviamente un'eccellenza, viene fissata a brevissimo rispetto ai termini del codice, ma in altri paesi, in altri tribunali magari tra un'udienza e l'altra passano anche degli anni, per cui anche se i termini del codice si riducono, poi il problema è sempre quello. A proposito di Tribunale di Verbagna e di Avvocati abbiamo anche il contributo del Presidente della Camera Penale, che è l'Avvocato Massimiliano Tessore, l'abbiamo intervistato, innanzitutto ci spiega che cos'è la Camera Penale. La Camera Penale è una libera associazione di Avvocati che frequentano le aule del diritto penale, quindi diciamo che è un'associazione che si dedica soprattutto alla tutela dei diritti delle persone che si trovano in contatto con la giustizia penale. Non è un'associazione sindacale, non abbiamo nessuna rivendicazione che riguardi i nostri iscritti, cioè a noi dopo tutto di come ci trattano in Tribunale non ci interessa. A noi interessa che eventualmente questi trattamenti negativi possano riverberarsi malamente sui nostri assistiti. Quindi il primo punto è questo. La nostra è un'associazione che si dedica soprattutto a cercare di migliorare il mondo della giustizia penale proprio per garantire agli assistiti, alle persone che si trovano sottoposte a un processo, qualsiasi parte del processo, abbiano una, si può dire, una giustizia più corretta, una giustizia che corrisponda a quelle che sono i canoni previsti dalla nostra Costituzione, alle convenzioni internazionali e dopo tutto anche minimamente a quelle che sono le regole previste dal Codice. In questo momento state approfondendo le ripercussioni della riforma Cartabia? La riforma Cartabia, possiamo dire, il nuovo Codice Cartabia, perché non è una semplice riforma, viene stata più che altro fatta passare forse anche dalla tecnicità dell'argomento in maniera forse non adeguata. Cioè è proprio un nuovo Codice di procedura penale, più che penale. Quindi un cambiamento importante, un cambiamento di mentalità anche per noi avvocati ed è una riforma che tocca una parte importantissima della giustizia penale, cioè trasforma tutto quello che era un'enorme quantità di carta in atti virtuali. Praticamente la giustizia penale si conforma a quella che è la modernità già di altre, per esempio della giustizia tributaria o quella della giustizia civile e quindi si entra nell'era totalmente digitale. E questa è una riforma fondamentale per tutti. Poi ha delle altre caratteristiche che veramente rivoluzionano il modo di approcciare il processo penale. La stessa idea di giustizia riparativa, quindi con una serie di percorsi che saranno anche complicati magari da affrontare all'inizio, però che daranno probabilmente una soddisfazione diversa alle persone vittime di un reato e daranno la possibilità a chi è accusato di evitare anche tutto un percorso di processo che sarebbe probabilmente estremamente frustrante, eppure trovando nello stesso modo una soluzione che dia forse più soddisfazione di una semplice condanna per una persona offesa, che non vedremo un risultato concreto rispetto ad un'azione giudiziale che è andato a intraprendere. E quindi veramente una riforma che modifica tutto quello che era il concetto nostro di processo penale. Una riforma che scrive quasi un nuovo codice, quindi è d'accordo? Sì, direi che riscrive il codice di procedura civile, riscrive il codice di procedura penale, riscrive anche in parte il codice penale, ci ritoccherà, anzi stiamo già studiando, studieremo, con noi abbiamo avuto ovviamente un confronto anche con i magistrati del Tribunale, anche loro stanno studiando, infatti cerchiamo di superare questo momento di criticità, perché effettivamente c'è un passaggio tra una norma e l'altra e quindi dovremo arrivare a modernizzare anche quello. Torno a dire, non so fino a che punto queste modifiche saranno positive per il sistema giustizia, ma la risposta la potremo avere soltanto tra qualche anno, quando effettivamente inizieremo a avere dei dati reali su quelli che sono la velocizzazione dei processi, sia civili che penali, e quelli che sono il mantenimento delle garanzie costituzionali, ovviamente per quanto riguarda principalmente il penale. Ecco, la giustizia riparativa, per chi non masticasse proprio il diritto, dà la possibilità attraverso percorsi alternativi di evitare un processo, ma di saldare comunque il proprio debito con la giustizia? Sì, la giustizia riparativa prevede la possibilità, la facoltà per le parti, quindi di imputato e parte offesa, di fare un percorso per arrivare a un accordo non soltanto economico, ma anche per comprendere la situazione, il disvalore sociale del comportamento, che porti poi ad una remissione di querela o a una valutazione da parte del giudice di quella che potrebbe essere un'offerta reale di risarcimento del danno, per poi arrivare all'estinzione del reato e alla chiusura anticipata del processo. Se non ho capito male, si estende la possibilità a un maggior numero di tipologia di reati, giusto? Sì, prima davanti al giudice di pace vi era l'articolo 35 che prevedeva che in caso di risarcimento del danno, prima del procedimento, il giudice potesse pronunciare una sentenza assolutoria di non dovessi procedere, dal punto di vista penale ovviamente questo andava a colpire reati procedibili a querela, quindi a fronte di un risarcimento danni la persona offesa rimetteva la querela, adesso con la riforma o il codice cartaglia come diceva il collega Avvocato Testore è stata ampliata la possibilità per il giudice anche di verificare se il percorso di giustizia riparativa, quindi di riparazione e risarcimento del danno è arrivato a buon fine e è accettabile anche in qualche modo cercando di bilanciare quelle che sono le legittime aspettative di una persona offesa di un reato e le capacità economico-reddituale di quello che è il soggetto che il reato l'ha commesso. Quindi cercare sempre di più di snellire e di arrivare anche a delle azioni concrete. Sì, a conciliare, a conciliare. Avvocato Cristina, lei ha lavorato in commissione e quindi ha partecipato alla stesura di questa riforma, volevo chiedere se c'è un aspetto di cui si sente particolarmente fiera anche. Allora, in commissione giustizia con le altre forze di centrodestra ci siamo battuti per la creazione di un giudice unico per la famiglia. Questo è un aspetto importante perché abbiamo bisogno per i casi che riguardano i minori di magistrati competenti e specializzati in materia, perché la materia del sociale è una materia molto molto delicata e riuscire a creare questo tribunale, estrapolandolo da quello che è stato fino ad ora il tribunale per i minorenni, è stato un grande successo. È stato un grande successo perché garantisce maggiormente la tutela dei minori, perché il tribunale per la famiglia tutela le donne, madri e a volte anche i padri singoli che hanno bisogno di tutela, anche loro ormai al giorno d'oggi e soprattutto i minori che hanno bisogno di essere anche ascoltati. È una cosa molto importante, siamo riusciti ad ottenere l'ascolto diretto del magistrato nei confronti del minore. Il minore ha diritto, ha un principio diritto di essere ascoltato dal magistrato perché il magistrato deve testare di proprio pugno la maturità del minore. Questo è un grande successo che abbiamo ottenuto, ovviamente la legislatura scorsa era composta da una maggioranza, come tutti sapete, variegata, c'erano tante e diverse sensibilità, però questo è un risultato importante. Purtroppo il principio della collegialità in questo tribunale viene meno perché la collegialità quando abbiamo un tribunale che decide composto da più giudici costa e sarà demandato il tutto al giudice monocratico ed ecco perché è necessaria la più ampia specializzazione dei giudici in materia. Tanti argomenti che sicuramente sarà bello approfondire anche insieme a voi, spero, in futuro perché gli spunti sono tanti. Già che vi ho qui una curiosità, si parla tanto di intercettazioni, anche con il nuovo ministro Nordi, un'intenzione di dare un'ulteriore stretta, mi sembra che ci sia anche un dibattito all'interno dello stesso governo. Volevo sapere voi però da avvocati che cosa ne pensate, Marchioni e poi Cristina. Il tema delle intercettazioni è un argomento spinoso, sotto ogni punto di vista è delicatissimo perché ovviamente c'è di mezzo la privacy delle persone, capisco ovviamente la necessità di approfondire delle indagini, di andare a ricercare i soggetti che hanno commesso dei reati, ma nello stesso tempo bisogna anche stare attenti a come vengono svolte nei confronti di chi. Ho visto e ho sentito anche degli esponenti di rilievo dire che le intercettazioni debbono essere svolte indiscriminatamente nei confronti di tutti, compresi anche le conversazioni degli avvocati o quant'altro, però secondo me andare un po' oltre rischia di far perdere quelle garanzie che sono necessarie, anche perché, lo ribadisco, l'avvocato non può ovviamente favorire il proprio cliente dando dei consigli errati, quindi dobbiamo partire dal presupposto che l'avvocato svolge il suo lavoro difensivo in maniera corretta e a tutela dei diritti dei cittadini, ma anche nell'interesse superiore della nazione, perché anche con il nostro giuramento noi ci impegniamo in questi termini, per cui se partiamo dal presupposto dell'avvocato è un soggetto, un professionista corretto che svolge bene il proprio lavoro, allora forse delle limitazioni a quelle che sono le idee di alcuni partiti politici in relazione alle intercettazioni indiscriminate andrebbero limitate, perché è uno strumento importante, è uno strumento utilissimo soprattutto in determinati tipi di reati, penso in questi giorni reati mafiosi, ma in altri ambiti forse andrebbero limitati, anche perché peraltro e non è questo il discorso che dovrei fare, ma anche economicamente sono spese importanti. Costose, costose e poi l'uso che se ne fa di queste intercettazioni, lei cosa ne pensa avvocato Cristina? Allora, l'introduzione del Trojan è attribuito, è attribuibile perché l'ho vissuto direttamente al Ministro Bonafede, è una di quelle nefandezze giuridiche che hanno segnato il requiem dello Stato di diritto, insieme a come dicevo prima, l'abolizione della prescrizione, fine pena mai, fine processo mai, la limitazione dei diritti di difesa, sono i Trojan così come erano stati concepiti e hanno finito per, finivano anzi perché è stato dato a loro un correttivo per dare ai giudici un'inammissibile funzione interpretativa del diritto penale, cosa che assolutamente non deve esistere, quindi diventa oltre che come diceva l'Avvocato Marchione, una violazione della privacy, anche comunque una pericolosità per tutti perché non ha senso che i fatti privati siano messi al pubblico ludibrio, per cui sono stati dati dei correttivi, credo che il Ministro Nordio stia provvedendo alle correzioni, non sono aggiornata all'ultimo momento sui correttivi, però comunque so che stanno mettendo mano a questi Trojan. Un altro tema, l'abbiamo già accennato prima, ma un altro tema che riguarda da vicino la vita nostra dei cittadini, ma anche quella percezione della giustizia che poi ha l'opinione pubblica, proprio quella dei tempi. Ritorniamo al nostro locale, a Verbagna, e con l'Avvocato Massimiliano Testore, Presidente, lo ricordiamo, della Camera Penale, parliamo della riforma, che impatto avrà sul Tribunale di Verbagna e se siamo pronti a questo salto in avanti che viene chiesto. Il Tribunale di Verbagna credo sia sempre pronto a qualsiasi salto in avanti, perché qui si è formato, credo, una delle prime sperimentazioni per la giustizia civile telematica e quindi non fa paura nulla. Come tutti i tribunali, è un tribunale però piccolo, quindi c'è sempre il problema dell'organico. La riforma cartabia prevede, diciamo, istituzionalizza quella che veniva chiamata dagli addetti al lavoro ai lavori udienza di smistamento e la fa diventare una vera piccola udienza preliminare. Il giudice di quell'udienza non potrà essere quello che poi giudica nel processo. Quindi ci saranno una serie di incompatibilità e bisognerà riuscire ad organizzarsi in maniera adeguata, ma sono problemi organizzativi che con il percorso che c'è in questo momento anche nel Tribunale, i nuovi giudici che sono arrivati, i giudici onorari di Tribunale, insomma c'è una, secondo me, una adeguata possibilità di avere un risultato concreto e, alla fine, non problematico. Quello dove potranno esserci più problemi riguarda invece il fatto dell'esecuzione oppure di quelle esecuzioni, diciamo così, se ho usato un termine tecnico, alternative, preventive, come la messa alla prova che viene molto potenziata, come altre modalità di gestione già della sentenza di primo grado con misure alternative. Perché lì entra in gioco l'ufficio dell'UEPE, che è l'ufficio di esecuzione delle pene esterne. Ed è già oggi oberato di lavoro e lì o si mettono altre persone a lavorare per noi, altrimenti si bloccherà veramente tutto, con grandissimo discapito, anche per tutti i procedimenti, anche stessi di giustizia riparativa che entreranno in vigore tra poco, ma anche quella impatterà su quelli che sono lavori di pubblica utilità, insomma tutta l'attività che viene svolta da questo ufficio. Lì sarà forse il problema, devo dire, più grosso. Ecco, l'organico, anche questo è un tema fondamentale. Com'è la situazione? Allora, diceva l'Avvocato Testore, è un problema di organico sia per quanto riguarda i giudici, ma anche per quanto riguarda il personale delle cancellerie. Qual è il suo polso della situazione? Il Tribunale Verbagna, così come tutti i Tribunali d'Italia, di fatto è in cronica carenza di personale, sia magistrati che dirigenti, che cancellieri, che personale di cancelleria, che addetti. Come dicevamo prima, nonostante questo è di piccole dimensioni, per cui c'è una massima collaborazione tra tutti gli uffici, così come tra avvocati e magistrati, e quindi riusciamo in qualche modo a sopperire. Sicuramente, come diceva il collega Avvocato Testore, questa nuova riforma porterà maggiori adempimenti sia agli uffici che ai magistrati, che come ha evidenziato, si troveranno in evidente incompatibilità nel momento stesso in cui andranno a verificare l'udienza predibattimentale con quelle successive, e quindi, dicevo, non invidio il Presidente del Tribunale, la dottoressa Fornelli, da poco nominata facente funzione, per quello che sarà il suo compito organizzativo, perché effettivamente con pochi magistrati che ha a disposizione nel settore penale, dovrà ovviamente prevedere chi mettere nella fase predibattimentale, chi nella fase preliminare, chi nella fase dibattimentale, poi il collegio, per cui la soluzione è ovviamente l'aumento dei magistrati, quindi maggiori concorsi, ovviamente i magistrati competenti, maggior personale di cancelleria, anche l'UEPE in questa fase, come diceva l'Avvocato Testore, avrà un ruolo importante, perché quando si parla di messa alla prova, di lavori di pubblica utilità o di quant'altro, è compito dell'UEPE predisporre il programma, fare le verifiche e fare le relazioni al Tribunale, per poi arrivare alla sentenza definitiva di assoluzione, per cui tanto lavoro in più. E gli avvocati invece quanti sono gli iscritti al Foro di Verbagna? Qua mi coglie preparatissimo. Lo sapevo. Gli avvocati nel Foro di Verbagna ad oggi sono 312 e di praticanti sono 31. Adesso non mi chieda quanti uomini, quante donne, sicuramente sono più donne, sia tra i praticanti che tra gli avvocati, perché ormai il sesso debole siamo noi. A parte gli scherzi, ovviamente tutti molto bravi, competenti, con i quali c'è massima collaborazione, ovviamente nell'interesse dei cittadini e alla tutela dei loro diritti. Foro piccolo, però non tanto piccolo rispetto a realtà dove territorialmente, come bacino d'utenza, hanno più abitanti, per cui insomma, soddisfazione. Bene, anche per questa categoria che insomma non siete molto amati neanche come noi giornalisti, per cui alla fine ci chiede. No, scusate la battuta, ma concedetemela. Allora, Tribunale di Verbagna che però ha vissuto anche dei momenti difficili nella recente storia, anche lei come Presidente dell'Ordine se ne è dovuto occupare, se ne è occupata la Camera Penale. Al momento, parlo del periodo delle indagini, diciamo la prima parte delle indagini sulla funivia del Mottarone, ci sono stati dei contrasti forti. Adesso il Presidente del Tribunale è la dottoressa Fornelli, appunto reggente, però non è stato ancora nominato un Presidente di ruolo. Questo succederà o c'è un rischio di accorpamento del nostro Tribunale? Se ne parlava anni fa, che farei la stessa domanda sia a lei che a Mirella Cristina, poi sentiamo anche l'Avvocato Testore. Allora, io adesso non voglio andare oltre, però in realtà di accorpamento si parla da anni. L'ultima riforma che ha rivisto, rivisitato la geografia giudiziaria è del 2013. Da lì siamo passati in Piemonte da 16 tribunali con 9 sedi distaccate, se non vado a rato, agli attuali 8, 9, chiudo scusa, 9. E quindi già una rivisitazione di quello che erano i tribunali c'è stata. Il Tribunale di Verbagno è un tribunale piccolo, però i principi che hanno portato, e ovviamente i parametri che hanno portato al precedente accorpamento, dovrebbero essere rimasti, salvo modifiche non a mia conoscenza, i medesimi. E quindi anche la prossimità, il servizio ai cittadini. Come dicevamo prima, il Tribunale di Verbagno è un tribunale piccolo, ma su un territorio molto vasto. Chi lo guarda da Roma magari pensa che sia piccolissimo, perché è visto in piano, sembra tutto facilmente raggiungibile in pochi chilometri. In realtà noi che siamo di questa terra sappiamo che per arrivare da una qualsiasi valle o anche soltanto da Cannobio a Verbagna sono tanti chilometri. E quindi lo spostamento, l'accorpamento e quindi conseguente chiusura del Tribunale di Verbagna, al di là del fatto di non essere auspicabile, perché toglierebbe la tutela dei diritti ai cittadini, ma sarebbe estremamente scomodo non per noi avvocati, che ovviamente ci spostiamo già per abitudine, per lavoro tra i vari tribunali d'Italia, ma quanto per i cittadini che già in questo momento storico, con problemi economici, hanno difficoltà ad accedere alla giustizia. Ma anche doversi spostare su Novara, perché penso che l'eventuale accorpamento avverrà sul Tribunale di Novara, sarebbe oltremodo scomodo, svantaggioso, e quindi ci sarebbe il rischio che il cittadino non ricorra più a un sistema giustizia, ma magari ad altre vie come le ADR, quindi mediazione e negoziazione assistita, che già su Verbagna stiamo, come Consiglio dell'Ordine, sviluppando molto e funziona bene. Però, insomma, un caso di denegata giustizia sarebbe. Prima di sentire l'avvocato Cristina, volevo dire alla Degia di preparare la parte 4 dell'intervista all'avvocato Testore. Avvocato Cristina, lei è d'accordo con quanto ha detto l'avvocato Marchioni? Sono d'accordo e nel discorso che facevamo prima anche del sottodimensionamento, non dimentichiamoci anche dell'ufficio unico notifiche presso il Tribunale di Verbania, che anche lì, ne ho avuto modo di parlare recentemente con il Vice Ministro Francesco Paolo Sisto, occorre veramente un'implementazione, perché il carico di lavoro dal UEP all'UNEP al personale di cancelleria è tale che è vero che i magistrati lavorano e lavorano tanto e bene, però è anche vero che hanno bisogno comunque di supporto del personale di cancelleria. È vero che è stato introdotto l'ufficio del processo, ma è anche vero che anche lì ci vanno persone in forza. Ritengo che tutto questo si svilupperà a breve, perché i fondi del PNRR a breve arriveranno e verranno distribuiti e sono proprio gran parte concentrati proprio in implementare questo personale. Confidiamo che tutto si possa avviare per il meglio e che il Tribunale di Verbania continui ad essere un'eccellenza in celerità e lotteremo con tutte le nostre forze per non farcelo portare via, perché se è del caso, noi del VCO sappiamo fare delle cordate fantastiche per difendere i nostri diritti e i nostri territori. Giusto, giusto, giusto. Grazie Avvocato Cristina. Sentiamo l'Avvocato Testore e poi chiudiamo purtroppo. La situazione attuale, come ho già detto, visti i numeri che non sono eccessivi, non è drammatica. Ma l'assenza di un Presidente, abbiamo un Presidente facente funzioni, che ovviamente opera in maniera egregia, ma abbiamo necessità di avere un presidio. Più che altro la presidenza del Tribunale viene adesso risolta, ma il non avere effettivamente un Presidente dà più che altro l'idea che forse Verbania non sia considerata una sede così importante. Eppure è uno dei Tribunali, non c'è differenza fra i Tribunali. No, ecco, il fatto di essere, di non essere neanche al centro, ma di una normale attenzione da parte di quello che è l'apparato statale che gestisce la giustizia, questo dà una bruttissima sensazione. Quindi secondo me non è un problema di effettiva, di efficienza del Tribunale in questo momento, ma potrebbe diventare un'idea che questo Tribunale, dopo tutto, non meriti l'attenzione che invece è necessaria per tutto il territorio. Si era parlato del rischio di un accorpamento con Novara anni fa, è una cosa ancora possibile? Tutto è possibile. Leggevo pochi giorni fa, se non sbaglio, il stesso partito dell'attuale Premier Meloni, che attraverso il collega Dalmastro proponeva un ritorno delle vecchie sezioni distaccate, dei vecchi Tribunali più piccoli, quel riordino che c'era stato, appunto, che aveva accorpato tanto e cui Verbania si era salvata. Posso dire che credo sia un'idea quantomeno originale, perché stiamo informatizzando tutto per cercare di ridurre proprio quelle che sono le necessità di avere presidi in ogni luogo. Il Tribunale di Verbania, però, occupa uno spazio importante, Novara e lontana. I territori che riguardano Verbania sono particolari, non possono essere accomunati con quella che è una città medio grande, come può essere Novara. I Tribunali, secondo me, devono avere sempre il polso della situazione del territorio. Possiamo andare già a giudicare una persona a Torino, una persona di Varzo, per esempio, a Torino. È difficile che un giudice di Torino possa comprendere come siano le dinamiche che ci possono essere in un piccolo paese di montagna. Quindi è anche giusto che ci sia una dislocazione che tenga conto delle singole realtà dei luoghi. Poi la riduzione dei costi e il nuovo sistema della giustizia possono invogliare a accorpare ancora di più. Io confido che Verbania, anche per la distanza rispetto agli altri territori del Piemonte, sia mantenuta senza problemi, anzi, diciamo, sia potenziata rispetto a quelle carenze attuali di organico che comunque ci sono. Speriamo bene. Speriamo bene. Il Presidente c'era quasi, mi stava dicendo. Sì, sì, il Presidente del Tribunale di fatto era già prossimo alla nomina, ma per carenza di requisiti per pochi giorni di anzianità non è stato nominato. Per cui adesso già è stata presentata la domanda per diventare Presidente del Tribunale di Verbania da parte di tre o quattro magistrati e quindi è questione di tempo per arrivare ad avere il Presidente del Tribunale. Questo speriamo che porti a maggior stabilità. E presto avremo anche allora il nuovo Presidente dell'Ordine degli Avvocati. Quando si vota? 23, 24 e 25 di gennaio, elezioni, il 23 anche assemblea annuale, faremo un po' a resoconto di quest'ultimo anno, premiazione di tre avvocati che hanno raggiunto, anzi superato perché il Covid ci ha portato un po' lunghi, i 50 anni di professione, quindi l'avvocatura verbanese è sana e va avanti. E lunga vita a voi, grazie all'Avvocato Mirella Cristina per questo collegamento. Grazie a voi. E a risentirci presto speriamo. A risentirci. Grazie allora anche all'Avvocato Marco Marchioni. Grazie a tutti voi. Alla prossima, auguriamo buona serata a chi ci ha seguito.